Rinfreschiamoci un po' le idee su questa parola che è il discernimento. Il discernimento c'è la capacità ma anche lo sforzo che dobbiamo avere come uomini e credenti di separare e di scegliere. E scegliamo quando? Scegliamo sempre, ogni giorno. Scegliamo le cose piccole, dove andare, cosa mangiare, chi andare a trovare, quando e se pregare, quando e se andare a aiutare qualcuno. Scegliamo cosa leggere, cosa scrivere, cosa studiare, dove andare all'università, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono le scelte fondamentali, il matrimonio, la scelta di vita cristiana, il percorso di studi, diciamo condizioni fondamentali della propria vita, su cui impostare la propria vita. Abbiamo accennato a qualcosa sul discernimento, inteso come individuazione, come scelta di quei segni che il Concilio ha definito i segni dei tempi, in cui è possibile vedere e comprendere la presenza e l'azione dello Spirito Santo. Poi il discernimento morale, cioè la capacità di individuare il bene, di sapere cos'è il bene, di sapere cos'è il male, e quindi puoi scegliere la propria vita, fare, costruire la propria vita attraverso scelte quotidiane di bene e scelte quotidiane di rinunzia e di lotta al male. Vediamo ancora un'altra, diciamo, differenza di finalità, che è il discernimento spirituale. Quindi il discernimento dei segni dei tempi, il discernimento morale, il discernimento spirituale. Non sempre è la stessa cosa, come vedete. Il discernimento spirituale tende a individuare, appunto, in un cammino spirituale, in una vita cristiana, in una vita religiosa, in una vita matrimoniale, nella vita umana da parte dei cristiani, il peccato e ancora prima la tentazione per evitare di cadere nel peccato e quindi per lottare contro il male, per condurre la buona battaglia e alla fine, ecco, raggiungere la perfezione cristiana. È un cammino tipico e che emerge soprattutto nella vita di tanti santi. Le loro scelte di fondo, le loro scelte morali e le loro scelte spirituali attraverso il discernimento. E in questo caso il discernimento che ha aiutato loro, ma può aiutare anche noi, a individuare attraverso la tentazione, il male e il peccato per evitarli e per vivere la virtù. Io vi aspetto domani, sempre su Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!